Burocrazia zero, estensione dell'autocertificazione, sportello unico per le imprese, accelerazione dei pagamenti, rinnovamento della funzione del genio civile, testi unici, normativi per assi tematici. Mi è venuta una cosa in testa mentre ero in macchina, un'altra piccola cosa simbolica, decidere i pagamenti per il teatro San Carlo a gennaio, cioè noi stanziamo 6 milioni di euro per il teatro San Carlo, ma li stanziamo alla fine dell'anno e quelli che lavorano devono andare in banca a farsi anticipare i soldi che a volte diventa un calvario per 6 milioni di euro. 6 milioni di euro sono quasi l'equivalente dei 4 milioni e mezzo di euro che la regione Campania ha stanziato per pagare le partite di pallone, togliendo soldi alla terra dei fuochi e anche la città dei ragazzi.